Cari telespettatori di Padre Pio TV, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la storia della Chiesa. Se nelle settimane precedenti ci siamo dedicati un po' ad uno sguardo generale, a guardare in maniera direi molto discorsiva quelle che sono le caratteristiche della Chiesa nel passaggio tra 800 e 900, soprattutto direi qual è la nuova modalità della Chiesa, dello stare all'interno della società dopo gli effetti, dopo le conseguenze della rivoluzione francese, e oggi cerchiamo di addentrarci in maniera un po' più specifica all'interno di quelle che sono un po' le risposte che la cultura cattolica fornisce a tutte quelle inedite novità innescate dalla rivoluzione francese alla fine del Settecento, i cui effetti direi poi continueranno a caratterizzare i rapporti tra Chiesa e società, soprattutto nel XIX secolo. All'interno della cultura cattolica, a partire dai primi decenni dell'Ottocento, sono sostanzialmente di due tipi, sono sostanzialmente due le risposte che la cultura cattolica utilizza per fronteggiare quelli che sono i processi di secolarizzazione innescati dalla rivoluzione francese. Da una parte direi c'è la posizione intransigentista, dall'altra parte c'è la posizione del cattolicesimo liberale. Cominciamo con l'intransigentismo. L'intransigentismo direi che parte soprattutto da un assunto, cioè la vera e propria negazione della libertà. La rivoluzione francese viene quasi considerata un brutto sogno, passatemi il termine, e si cerca un po' di mettere in atto tutte quelle risposte, quasi senza tener conto di quelli che sono però gli effetti evidenti di questa rivoluzione, cioè quello che la Chiesa si trova a vivere negli anni immediatamente successivi la rivoluzione francese viene considerata come una vera e propria opera demoniaca e quindi la libertà, che è un po' il principio più importante innescatosi dopo la rivoluzione francese, la libertà viene considerata dal pensiero degli intransigenti quasi l'amica più cara al demonio. Da questo punto di vista quello che la Chiesa vive nei primi decenni dell'Ottocento è quasi la realtà di una città della assediata. L'intransigentismo è quella posizione che si lega a un forte conservatorismo, cioè, vi dicevo prima, si tenta di considerare la rivoluzione francese, ma soprattutto quelli che sono stati gli effetti della rivoluzione francese, è quasi come un brutto sogno da cancellare, quasi come un brutto ricordo da cancellare. Questo perché? Perché tutto ciò che è stato innescato dalla rivoluzione francese viene considerato un vero e proprio pericolo per la sussistenza di questa cittadella assediata, per la sussistenza della stessa Chiesa e si leggono gli effetti di quelle conseguenze tutte in maniera negativa. Per esempio, la libertà in politica, secondo gli intransigenti, porta inevitabilmente alla rivoluzione. In filosofia, così come era considerata la filosofia del Settecento, porta ai veri e propri errori. E in ambito teologico c'è il rischio che abbracciando, direi, questa libertà innescata dalla rivoluzione francese, ci si trovi soprattutto di fronte a delle vere e proprie eresie. Alla base di questo concetto non manca una vera e propria tentazione, cioè quello di considerare cattivo, nocivo per l'uomo, quanto tutto quello che non è elevato all'ordine soprannaturale. Direi che attraverso questa lente di ingrandimento, attraverso questo obiettivo, all'interno di questa prospettiva, gli intransigenti leggono un po' tutta la storia moderna come una vera e propria apostasia che raggiunge il suo culmine con la rivoluzione. E quando si parla dell'apostasia della storia moderna in ambito intransigente, direi si fa riferimento a quelli che sono stati gli inneschi della riforma protestante, a quello che è stato poi il periodo del Settecento con il razionalismo e l'illuminismo, filosofie del razionalismo e dell'illuminismo che hanno, secondo gli intransigenti, portato inevitabilmente alla rivoluzione francese e quindi alle conseguenze che assediano la cittadella. Direi da questo punto di vista quello che gli intransigenti condannano nella riforma protestante è il fatto di aver, metaforicamente parlando, quasi abbassato gli occhi dal cielo sulla terra. Cioè aver posto, così come aveva fatto in effetti Lutero, l'uomo al centro di tutto. Non a caso quegli anni erano stati anche gli anni del cosiddetto caso Galilei, cioè una modalità di rapportarsi con il creato, una modalità di rapportarsi con la fede. Sostanzialmente Lutero che cosa aveva fatto? Aveva negato un po' tutta la tradizione patristica, tutta la tradizione del Magisterio della Chiesa, aveva negato il ruolo svolto dalla Chiesa per centrare la propria attenzione sull'uomo e sulle capacità dell'uomo. Non dimentichiamo che Lutero era stato tra i primi a tradurre in lingua tedesca la Bibbia, proprio perché è convinto della possibilità di ogni individuo di poter tradurre, di poter intendere i contenuti della Sacra Scrittura, senza nessuna opera di mediazione svolta dalla Chiesa. Gli intransigenti all'interno di questo innesco, all'interno di questo modo di fare della riforma protestante, individuano l'origine di tutti quei mali che poi, attraversando il XVIII secolo, attraversando la filosofia illuminista, direi amalgamandosi con la filosofia tipica del Settecento, saranno considerati all'origine della rivoluzione francese, quindi all'origine di tutti quei mali che attaccano la Chiesa. Quindi per gli intransigenti il periodo tra il 1789, che è l'anno della rivoluzione, al 1815, cioè siamo in piena epoca della restaurazione, tutto ciò che avviene in questo arco cronologico, seppur molto limitato, è quasi da considerarsi un vero e proprio incubo da dimenticare presto. E sotto, direi, l'etichetta del nuovo, sotto tutto ciò che il XIX secolo, l'Ottocento, produce come novità, viene proprio considerato all'interno di quest'ottica, cioè viene considerato come un qualche cosa da condannare. E questo non soltanto, scusatemi, a livello concettuale, quando soprattutto, direi, in riferimento a quelle che sono le novità che riguardano la quotidianità di quel periodo. Per esempio, la metà del XIX secolo, sul territorio della penisola italiana, registra un enorme sviluppo della ferrovia. I binari vengono costruiti dappertutto. In città del Vaticano, nei confronti dello Stato Pontificio, questo sviluppo viene fortemente limitato, perché si teme che sui binari possano viaggiare anche quelle che sono le idee rivoluzionari di quello stesso periodo. Così anche come, per esempio, in concomitanza con lo sviluppo delle ferrovie, si limita fortemente l'introduzione della illuminazione a gas. Sono quelli, gli anni durante i quali si comincia a sviluppare una illuminazione diversa, da quella che era stata l'illuminazione fino a quel momento, e soprattutto, a giustificazione di questo atteggiamento, di questa chiusura nei confronti dell'illuminazione, viene preso in considerazione il fatto che bisogna evitare le riunioni notturne, e soprattutto quelle che possono essere le riunioni clandestine, sintomo di un'eventuale rivoluzione. Quindi sintomo, ancora una volta, del dover confrontarsi con quelle novità innescate dalla rivoluzione industriale. E questo direi non soltanto nel rapportarsi con quelle che sono le novità, si cerca di cancellare quello che era stato il prodotto finito, permettetemi il termine, della rivoluzione francese. Se la rivoluzione francese si era contrapposta, e aveva cancellato un po' tutte quelle che erano le prerogative della nobiltà, che erano le prerogative del clero nei confronti del resto del popolo, qui invece si tente a riaffermare una sorta di disuguaglianza, cioè si nega l'uguaglianza, si nega la promozione sociale, si arriva anche a negare in alcuni ambiti l'istruzione, perché si tente a mantenere una società sempre esclusivamente organizzata in modo gerarchico. Si afferma il proprio vincolo con Roma, in alcuni casi gli intransigenti sono addirittura più papisti del Papa, e si tenta di difendere anche a denti stretti quelle che sono le strutture cristiane all'interno della società. In una società, direi, caratterizzata da un vero e proprio concetto di libertà, innescato dalla rivoluzione francese, adesso si tenta di affermare sempre di più la presenza di realtà specificamente legate alla realtà cristiana, per, direi, facilitare nei fedeli l'adempimento dei doveri religiosi. Si diffida in ambito intransigente da tutti quegli atteggiamenti che in un certo senso distaccano la Chiesa dallo Stato, sciogliendo quasi, direi, quelli che sono i compromessi, tra virgolette, che esistono tra Chiesa e Stato. Sostanzialmente, a livello di intransigenti, direi, che non si concepisce un modello diverso di società cristiana che non sia quella dell'anzier regime. Cioè, come le cose erano, come i rapporti tra lo Stato e la Chiesa erano stati fortemente saldi fino alla rivoluzione francese. Certa storiografia legge in questo modo di pensare, in questo modo di fare, in questo atteggiamento nei confronti di quella che è la contemporaneità di quel periodo, una vera e propria tattica storicamente errata, perché da questo punto di vista, direi, gli intransigenti non fanno altro che mirare a realizzare una società gerarchicamente organizzata e soprattutto una società che continui a, come dire, ad essere fondata sul privilegio. Chiaramente, se dovessimo dare un giudizio molto breve su quello che è la posizione dell'intransigenza, va scemando sicuramente. È una posizione che nell'Ottocento va sicuramente scemando dalla rivoluzione in poi. Quella animosità che caratterizza la posizione intransigente negli anni immediatamente successivi, la rivoluzione francese, è un'animosità che, per tutto il XIX secolo, va sicuramente scemando. Valido, per esempio, non è l'intransigentismo in sé per sé quando esistono delle valide figure di intransigenti che poi si opporranno in maniera decisa a quello che sarà poi l'altra posizione cattolica di cui vi dicimo all'inizio e che vedremo tra un po', cioè il cattolicesimo liberale. L'intransigentismo pone, direi, soprattutto un obiettivo molto importante, cioè una critica radicale, utile ma anche costruttiva, dei principi liberali, cercando di evidenziare quelli che sono gli aspetti incompatibili con la dottrina cattolica. Questo perché l'intransigentismo lotta nei confronti della laicizzazione, forse il primo prodotto della rivoluzione francese. Difende, per esempio, la scuola cattolica e soprattutto difende l'influsso di quella che può essere la Chiesa all'interno della società. Il Laboratorio Italia, da questo punto di vista, si rivela ancora molto sintomatico, cioè gli intransigenti, qui soprattutto negli anni immediatamente successivi in Unità d'Italia, rivendicheranno di fronte a quello che è il paese legale, voluto da Camillo Benzo Conte di Cavour, una identità, ma soprattutto rivendicheranno quelli che sono i diritti di una nazione, il paese reale, cioè l'Italia, comunque sostanzialmente in fondo sempre cattolica. Forse se dovessimo riuscire ad individuare un errore di fondo all'interno della cultura dell'intransigenza, potremmo sicuramente individuarlo in quella che è una sorta di condanna generale della libertà. Ecco, forse questa è la pecca fondamentale dell'intransigentismo tutto ottocentesco, cioè la mancanza dei distinguo tra le diverse espressioni di libertà che comunque adesso caratterizzano la società europea. Ben diverso, direi, è l'atteggiamento che troviamo all'interno della seconda posizione. Vi ho detto all'inizio, sono sostanzialmente due i filoni all'interno della cultura cattolica che riflettono su quali possono essere le nuove modalità da instaurare tra Stato e Chiesa alla luce di quelli che sono gli effetti della rivoluzione francese. Direi che davanti alle chiusure, davanti alle nette chiusure poste dall'intransigentismo nei confronti del concetto, per esempio, di libertà innescato dalla rivoluzione francese, è ben diversa e sicuramente meno chiusa, è la posizione del cattolicesimo liberale. Direi che in ambito liberale, tra le file del cattolicesimo liberale, si mira invece ad un vero e proprio incontro. Un incontro della fede tradizionale, diciamo così, con quello che è il clima nuovo che si è venuto a creare dopo la rivoluzione francese. Se l'intransigentismo mira ad accentuare il concetto di privilegio, per esempio, nei confronti della libertà, tra libertà e privilegi, tra il cattolicesimo liberale, il rapporto è completamente capovolto. La libertà viene affermata soprattutto nei confronti dei privilegi. E la libertà della Chiesa, in maniera particolare, per il cattolicesimo liberale, direi, si rivela un elemento che può anche appartenere alla Chiesa, che appartiene alla Chiesa, ma non perché faccia parte di quella che è la missione speciale della Chiesa, quando soprattutto perché anche la Chiesa si trova a dover operare all'interno di un contesto, direi, caratterizzato sostanzialmente da una libertà generale. Non soltanto. Se l'intransigentismo individuava nella democrazia il frutto, direi, primo del cosiddetto protestantesimo, a differenza dell'intransigentismo, il cattolicesimo liberale, invece, individua nell'assolutismo il frutto del protestantesimo, perché, secondo il cattolicesimo liberale, è quello l'ambito che ha esteso, l'ambito dell'assolutismo, che ha esteso pericolosamente le competenze dello Stato. Per il cattolicesimo liberale è utile anche una maggior distinzione tra le due società, cioè tra il compito della società civile e i compiti, invece, della società religiosa. Così come, a differenza dell'intransigentismo, il cattolicesimo liberale mira a sciogliere, direi, tutto quel fascino che la Chiesa, soprattutto la Chiesa post-tridentina, ha avuto nei confronti della politica dei concordati, quando la Chiesa, nei confronti dello Stato, si presentava come una vera e propria società perfetta. Da questo punto di vista, direi che anche tra le fila del cattolicesimo liberale, non si guarda, direi, alla rivoluzione, così come avviene tra le fila dell'intransigentismo. Il cattolicesimo liberale è un atteggiamento diverso nei confronti della rivoluzione, non è una vera e propria condanna. Direi che, nell'ambito liberale, il concetto di riforma, quindi quasi una rivoluzione accompagnata mano a mano, una rivoluzione accompagnata passo per passo, le riforme per il cattolicesimo liberale sono quegli ambiti, sono quegli spazi che possono sicuramente evitare le rivoluzioni, accogliendo le istanze più moderate. Un atteggiamento, una concezione completamente invece diversa dall'intransigentismo che considerava l'ambito delle riforme come un vero e proprio ambito di debolezza nei confronti dello Stato e quindi da condannare ulteriormente. Da questo punto di vista, direi che il cattolicesimo liberale è una delle voci più autorevoli che caratterizzano la realtà italiana. Mi sono già espresso, direi, nelle puntate precedenti da questo punto di vista. Siamo in un periodo durante il quale le vicende italiane rappresentano un vero e proprio laboratorio per poter intuire veramente che cosa ha significato per la Chiesa stare all'interno della società ottocentesca. una società, non mi stancherò mai di ribadirlo, completamente diversa dalla società anti-rivoluzione francese. Quindi una Chiesa è impegnata a individuare quali percorsi da seguire per poter riagganciare un rapporto con lo Stato, riagganciare un rapporto con la società, direi, fortemente messo a rischio da quelli che erano stati gli esiti della rivoluzione francese. Da questo punto di vista, in riferimento, direi, alla concomitanza dei cattolici intransigenti e dei cattolici liberali, il concetto di questione romana, il concetto di questione romana è un concetto, direi, che si rivela particolarmente significativo per spiegare, ma anche per intuire, quali sono i nuovi percorsi, direi, e quali sono i nuovi limiti, se così possiamo dire, che adesso regolano i rapporti tra Stato e Chiesa. Un concetto di questione romana che dal punto di vista storiografico, che dal punto di vista storiografico, direi, si suddivide in due grandi ambiti. Cioè, storiograficamente parlando, parlare di questione romana fino al 1870 significa parlare di quelle difficoltà messe in atto dalla politica vaticana, difficoltà tra virgolette, messe in atto dalla politica vaticana quasi a evitare che il progetto dell'unità d'Italia andasse in andasse in porto. Parlare dello stesso concetto, cioè della questione romana dopo il 1870, l'unità d'Italia compiuta dopo il 20 settembre 1870, che è un po' il giorno della cosiddetta breccia di Portapia, significa invece parlare di quella che sarà la propria contrapposizione che si svilupperà tra la politica vaticana, tra il Vaticano di Pio IX per esempio e quello che sarà il Regno d'Italia così come voluto, disegnato e costruito da Camillo Benzo Conte di Cavour. Tra le voci più autorevoli direi che riflettono tra le file del cattolicesimo liberale sulla situazione italiana non dimentichiamo che certamente 1814-1815 c'è il congresso di Viena, la restaurazione, si tenta un po' di riportare quella che è l'identità della carta europea agli anni immediatamente precedenti, la rivoluzione, dovremmo direi approfondire da questo punto di vista per vedere quanto di quel progetto di restaurazione poi in effetti si poteva portare dopo la rivoluzione francese in quei decenni siamo in un periodo per esempio durante il quale il concetto di nazione un concetto squisitamente culturale fino alla fine del Settecento con gli inizi dell'Ottocento direi assume sempre più il carattere di un concetto prettamente politico e quindi da questo punto di vista in questa prospettiva il concetto di nazione comincia a solleticare permettetemi il termine comincia a solleticare i veri e propri moti rivoluzionari che per esempio nel caso della penisola italiana registrano il 1820-21 il 1848 1859 60-61 come le tappe principali di quel processo che porterà alla definizione del regno d'Italia ecco in questi decenni durante i quali la politica cavuliana direi caratterizzati da vere e proprie spinte nella realizzazione dell'unità d'Italia sono almeno tre le voci che tra le fine del cattolicesimo liberale suggeriscono eventuali risposte per superare come vi dicevo prima la contrapposizione tra Stato e Chiesa che caratterizza i rapporti tra queste due realtà istituzionali almeno fino al 1870 e poi direi soprattutto dopo il 1870 ma le tre voci di cui vorrei parlarvi sono quelle di Antonio Rosmini di Alessandro Manzoni e di Vincenzo Gioberti che sono un po' i tre maggiori esponenti del cattolicesimo liberale Rosmini direi favorevole a quello che è il federalismo e meritevole di ricordo soprattutto per un'opera cioè delle cinque piaghe della Santa Chiesa scritte tra il 1832 e il 1848 però il 1848 1849 già posto all'indice delle opere proibite all'indice dei libri proibiti perché direi questo atteggiamento di chiusura da parte della politica vaticana nei confronti del prete di Rovereto perché delle cinque piaghe della Santa Chiesa detto in maniera molto sintetica non è altro che il tentativo di individuare eventuali piste da percorrere per cercare di come dire riorganizzare i rapporti tra Stato e Chiesa dopo che la rivoluzione francese aveva sciolto quello che era l'antico binomio tra trono e altare sicuramente direi a differenza dell'intransigentismo che non tiene conto di quel che non vuole tener conto di quelli che sono gli effetti della rivoluzione francese in ambito liberale tra le file del cattolicesimo liberale la politica di Rosmini la posizione di Rosmini è quella detta direi in maniera molto semplice di cercare di individuare al di là di quelli che sono gli effetti della rivoluzione francese quali possono essere i percorsi da seguire per cercare di individuare quale può essere il nuovo ruolo da protagonista per la Chiesa all'interno di una società completamente diversa chiaramente la posizione di Rosmini prevede non soltanto un approccio diverso nei confronti dello Stato ma anche ecco perché le cinque piaghe della Santa Chiesa tra virgolette un vero e proprio processo di riforma interno alla Chiesa ma la Chiesa da questo punto di vista direi è ancora fortemente condizionata dal conservatorismo quindi ancora fortemente chiusa nei confronti di eventuali riforme riforme interne e lo stesso Rosmini per esempio aveva cercato di individuare vi dicevo prima percorsi da seguire per una riconciliazione del cristianesimo con gli ideali moderni attraverso un rinnovamento della Chiesa ma anche della società le cinque piaghe della Chiesa direi corrispondono a cinque mali interni alla stessa realtà ecclesiale che Rosmini individuò nell'insufficiente partecipazione del popolo alla liturgia non a caso poi direi da questo punto di vista molto del movimento liturgico che si svilupperà nei decenni successivi attingerà da Rosmini nella mediocrità intellettuale e spirituale del clero nei dissensi dell'episcopato l'illigenza civile delle nomine dei vescovi e nell'amministrazione dei beni ecclesiastici criticabile secondo Rosmini per molti aspetti ecco una Chiesa non ancora pronta a fare il processo a se stessa sulla stessa posizione direi si pone anche Alessandro Manzoni che a differenza di Rosmini respinge il il federalismo però individua nel cristianesimo la vera sorgente per la vera libertà e soprattutto direi mirerà a tenere la religione lontana da quelli che sono gli interessi e lontana anche dalle passioni del secolo l'ultima voce ma giusto perché il tempo di questo appuntamento è molto limitato è quello di Vincenzo Gioberti Vincenzo Gioberti autore del primato morale civile degli italiani nel quale si prospetta l'eventuale realizzazione di una federazione sotto la guida del Papa sotto la guida del Pontefice e soprattutto direi forse la voce più autorevole che punta il dito su quello che è stato il cattolicesimo post-tridentino condannando e Gioberti lo fa in maniera molto esplicita direi il forte fascino che la Chiesa ha subito in quei secoli dal potere temporale e nel contempo Gioberti auspica anche un'eventuale separazione tra i due poteri ma l'altra grande opera direi che rivela lo spirito liberale di Vincenzo Gioberti è il Gesuita Moderno pubblicato nel 1847 un'opera che individua nella compagnia di Gesù nei Gesuiti forse i veri nemici della civiltà perché Gioberti individua nei Gesuiti gli interpreti di quel cattolicesimo post-tridentino che dal suo punto di vista non era stato direi così molto favorevole nei confronti della Chiesa e chiudo anche con una lettura molto sintetica di quelli che sono le ombre e le luci del cattolicesimo del liberalismo cattolico sicuramente direi il merito più grande del cattolicesimo liberale è quello di aver evidenziato l'assoluta necessità di raggiungere un accordo fra la Chiesa e il mondo moderno e soprattutto aver puntato su quella che è la formazione delle coscienze individuali e dell'opinione pubblica direi attraverso la scuola attraverso la stampa se dovessimo individuare delle critiche per quanto riguarda il cattolicesimo liberale sicuramente non manca una concezione strumentale della libertà fra i cattolici liberali in funzione però dei diritti della Chiesa e soprattutto direi gli stessi cattolici liberali a differenza degli intransigenti soprattutto del XIX secolo non avvertono la gravità dell'ormai imminente problema sociale ponendosi nei confronti di quest'ambito soltanto dal punto di vista paternalista vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a martedì della prossima settimana di quest'ambito di quest'ambito